Negli ultimi due anni sono stato invitato in più occasioni a parlare di argomenti legati al gioco di ruolo e al game design. Ad esempio l'anno scorso a Luca Comics and Games, a la Gorà del gioco di ruolo, a parlare di cosa ci rende umani, oppure al gender play, a parlare di sicurezza al tavolo da gioco ed emozioni, ma non perché io sia uno specialista, ma perché sono molto addentro alla questione giochi di ruolo, poiché me ne occupo dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. Non definiremo qui cosa sono i giochi di ruolo, chi segue questo canale o i miei contenuti solitamente un'idea almeno vaga ce l'ha. Nel caso non lo sapeste andate a cercarvi il video dove io do la mia definizione. Nell'ultimo anno inoltre sono stato invitato in tre luoghi differenti legati sempre alla scuola o alla formazione superiore, quindi accademi di belle arti, scuole analoghe, per parlare di questo argomento. Prevalentemente game design gamification. Non si sa bene per quale motivo, ma sospetto sia per una questione di incompetenza generale, perché non ci sarebbe motivo di chiamare me, voglio dire, io sono l'ultimo arrivato e forse sono uno specchio di questa apocalisse incombente, quindi nessun merito da parte mia. Parlare in pubblico, essere invitato, avere interviste online, avere trasmissioni che mi chiamano anche a livello non solo di quattro blogger scappati di casa, ma a livello un pochino più, tra virgolette, istituzionale, ha fatto sì di instillarmi il dubbio, la sensazione che forse dovrei avere a supporto delle mie parole, non tanto o non solo una serie di slide, cosa normale per chi opera in ambito accademico, para-accademico, pseudo-accademico, ma ragionare sulla creazione di un mio testo, questo non è un video di pre-marketing, per preparare un ambiente ad un prodotto facendo finta che serva e poi dire visto ce l'ho, questa è un'operazione normalissima che viene fatta in qualsiasi ambito, fingere che ci sia una domanda e dopodiché intanto preparare l'offerta e presentarla nel momento in cui la domanda c'è davvero perché si è instillato nella testa delle persone un'esigenza, che è solitamente una falsa esigenza, diciamocelo, non c'è alcun bisogno di un libro, un manuale, un'enciclopedia che parli di giochi di ruolo, sono un fenomeno della nicchia della nicchia, è un termine antipaticissimo quanto stravero, a parte un paio di serie tv fomentate, pagate per sponsorizzare un certo tipo di brand, va bene, sì, è una fetta di mercato che ha già un monopolio e quindi le cose di cui parlo io sostanzialmente non esistono, non esistono, io non esisto, però mi è stato suggerito di dotarmi, di strutturarmi con del testo, perché? Perché scrivere un libro, avere un testo, in qualche modo dona spessore, credibilità, reputazione. Vi sottopongo le mie idee, poi se avete pazienza di seguirmi, in 5 minuti e non di più, vorrei anche ascoltare le vostre, questo è un video chiuso e quindi vi chiederei di commentare, probabilmente lo pubblicherò su YouTube e su Facebook, quindi gentilmente vi prego, io ve ne prego davvero, oltre a mettere il solito pollice su, iscrizione al canale, per diffonderlo e condividerlo, vi chiederei anche di commentarlo, cioè di dare la vostra opinione, anche negativa, anche che mi stronchi completamente, ok? Vi chiederei un feedback, tutto qua, mi piacerebbe avere un feedback, anche dai detrattori, non dei trattori, da miei detrattori, non solo sostenitori o patroni. Loro, vabbè, li terrò ovviamente più in considerazione, però mi piacerebbe avere un feedback. Essendo una questione che però riguarda me e non riguarda la community, il gioco di ruolo in generale, non starò a postare questo video in giro per dei community per farmi dell'autopubblicità triste e squalida. Nella stesura di un testo, per quanto, ripeto, non sono una persona di ambito accademico, però la prima cosa è stilare, diciamo, una lista di quella che è la bibliografia. Cosa c'è? Quali testi ci sono già? Qual è la letteratura già in essere? E cosa contiene? E quello che ha dentro? È giusto? È vero? Era vero in un periodo e adesso non lo è più? Posso prenderne delle parti? Posso contattare gli autori e chiedere di espandere i contenuti? Cioè, ci sono tanti modi, diciamo. Ma prima ancora di rispondere a questa domanda, che è poi metodologica, c'è un'altra domanda alla quale rispondere, è qual è il contenuto? E prima ancora di qual è il contenuto, è cosa voglio dire e a chi? Allora, partiamo dal presupposto che io ho bisogno di un testo per supportare, diciamo, per far salire la mia reputazione, chiamiamola così. Quindi, di base, uno potrebbe metterci dentro anche delle figurine di merda rosa. Quanta gente, voglio dire, quante pubblicazioni scientifiche in realtà sono fatte da degli stegisti non pagati, firmate da un professore, pubblicate pagandole con soldi pubblici o delle rette e poi lette da nessuno. Voglio dire, viviamo in un mondo che è fatto di sta merda qua, quindi, voglio dire, va bene anche quello. Però non è il mondo che piace a me, non è il mondo a immagine e somiglianza mio, potremmo dire, come volontà della mia rappresentazione, no? Ecco, non è quello, non è quello. Quindi vorrei dare un contenuto, ma che cazzo faccio? Faccio l'enciclopedia, cosa faccio? Il vocabolario con i termini, la terminologia, quelle sono palle che non finiscono più. Cioè, sono libri che rompono i coglioni, quelli con la terminologia, i glosse grandi glossari, il dizionario, chi è che si mette a prendere un dizionario? Anche il dizionario della lingua italiana, no? Cosa fai? Lo prendi, ho l'enciclopedia, prendi l'enciclopedia e leggi A, B, C e vai avanti. Cioè, demenziale, capito? Almeno, poi io sono veramente nemico delle tassonomie, quindi no, non è quello che mi interessa, personalmente, come mia agenda personale. Quindi, cosa potrei fare? Ho pensato alla introduzione che scrisse per me Nicola De Gobbis in B-Movie Antologia, di Space Orange, 42. Lì De Gobbis scrisse, ma Elias non è un teorico del gioco di ruolo, Elias è un filosofo del gioco di ruolo. Io, finché non l'ho letta questa frase, non la sapevo. Quando l'ho letta, è diventata vera. Quando l'ho letta, ho capito che è effettivamente così. Non mi interessano le teorie, le teorie del gioco di ruolo, le teorie del gaming, le teorie del... Cioè, mi interessano, nel senso, mi interessano, per mia cultura personale, il modello GNS, il big model di The Forge, il modello MDA dei giochi da tavolo, i modelli sull'esperienza al tavolo, sugli intenti. Cioè, è pieno di modelli che continuano ad uscire, basati magari sull'ambiente dei LARP, e poi dell'ambiente dei videogame. come modelli su modelli. Sono modelli teorici che, la volta che esce la tecnologia, subito dopo, o il comportamento strano, o l'oggetto ibrido, si rompono completamente. Perché loro descrivono le teorie, cosa è stato il mondo fino a quel momento. Oppure una fettina. E quindi si distruggono. Quindi l'approccio teorico, secondo me, è fallimentare in assoluto. Soprattutto su un fenomeno, come quello del gioco di ruolo, che è un fenomeno prevalentemente commerciale e prevalentemente di micronicchia. Però, come ogni fenomeno di micronicchia, è proprio giusto che ci sia un minimo, un minimo di letteratura o di documentazione che parlino di quel preciso momento. Non è che servirà alla storia dell'umanità, ma serve a fotografare dei momenti perché non vengano affogati completamente nel mainstream. E quindi, stavo ragionando su un volume che parlasse di filosofia del gioco. Filosofia del game design, ma parallelamente, perché non fosse solo un mio sproloquio, dare qualche elemento, anche teorico, o teorico che sia funzionale. Ecco, sicuramente non una raccolta di la talk di questo dice questa cosa, il libro di questo dice questa cosa, oppure prendere tutti i manuali e vedere tutte le definizioni che vengono date di certi termini comuni per trovarne una intermedia. Questa è una roba da malati di mente, e lo dico con tutto il rispetto per il disagio mentale, assolutamente, ma questa è una roba da matti, da pazzi furiosi. Quindi ci ho pensato, perché appunto io non sto bene, però ho pensato anche che non ha molto senso l'approccio matematico, cioè prendo tutti i fattori e vedo se c'è qualcosa in comune. Non vuol dire assolutamente un cazzo, perché quando hai preso 50 definizioni giochi di ruolo, 50 giochi di ruolo di merda, probabilmente te ne basta prendere un altro e hai una definizione molto molto migliore, più consapevole e più evoluta. Quindi trovare il minimo comune denominatore delle corbellerie scritte in questi 40-50 anni non ha minimamente senso. Chiedo a voi cosa può avere senso. Io ovviamente ho delle mie idee, ne ho già espresse una parte, ma voglio sapere anche da voi, questo voi tra mille virgolette, perché senza nome e senza cognome, chiedo anche a tutti, a tutta la community, che magari incidentalmente incrocia questo video, che cosa secondo voi per l'appunto manca, che cosa credete serva, che cosa vi piacerebbe anche scrivere, non escludo assolutamente, al di là che io voglio mettere il mio nome dappertutto e marchiare qualsiasi cosa, non escludo assolutamente di fare collaborazioni aperte o di fare un volume corale che magari raduna dei saggi. Ecco, questo assolutamente. Per chi di voi avesse voglia di scrivere un breve saggio, un breve racconto, esistono già esperimenti del genere in ambito game design, roba che anche se la regali in pdf non te la legge nessuno, ma diciamo, esiste già questa roba, tentiamo di vedere se questa potrebbe essere una strada, altrimenti io vi chiedo giusto un suggerimento, di cosa potrebbe parlare, come si potrebbe intitolare, come facciamo ad evolvere e aumentare la consapevolezza e la conoscenza in questo ambiente che è solo puramente mercato oggi. Grazie, buon gioco!